Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi come state vedendo abbiamo la carriera allenatore da fare. La iniziamo dato che sta per uscire FIFA 21 ragazzi e allora noi che aspettiamo a fare una carriera finale prima che esca FIFA 21 su FIFA 20. Io direi di prendere... Lui vai, lui. Mi ha tirato. Arrigo, vabbè il nome lo cambiamo. Stu cazzo. Inghilterra, sì, vabbè dai questi nomi non interessano. Allora ragazzi, la squadra... Ci prenderemo una bella squadra di Serie A. Eh sì. Sono indeciso. Però ho già... Sono con la mente... Mi dice la Lazzi. Al carriera allenatore con la Lazzi. Ok. Tutto va bene, tutto va bene. Caricamento. Ok. Se volete una carriera... Se volete quando coprerò FIFA 21 o una carriera allenatore lo scrivete nei commenti. Ok. 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 Umelz. Dal Bayern Monaco al Borussia Dortmund. Oggi ragazzi non faremo quartise... Ma faremo... Faremo... Dove... Cioè... Comporremo la squadra. Vediamo chi possiamo mettere subito... Da comprare... Qui non mi interessa... Li inviti non... In quei minicampionati lì non mi interessano... Quindi... Ok. Super Coppa Nazionale. Ecco qui. Già vediamo contro che usciamo. La Lazio... Esce contro... Vediamo ragazzi, vediamo. Lazio. Noi siamo contro... Non vedo un cazzo. Non vedo il nostro nome. Eccola. Stated Rines. Vabbè l'ho vista. Vabbè l'ho vista. Ok ragazzi, ok. Allora. Io andrei subito a vedere la squadra. Come... Come è composta. Da quanti... Da come siamo forti. Bah. Beh. Una difesa è un po' da rifare, eh. La difesa è un po' da rifare. Eppure l'esterno. Poi vediamo un po'... Vabbè sì, poi il resto sono... Forte, però... La difesa è un po' più da fare. Pure... C'è un altro campo. Andiamo a vedere chi... Chi possiamo prendere. Allora. Accento campo. Andrei sul sicuro. Voi vi so vedrò una cosa. A quanto è di valutazione. Guardiamo il nostro, Villi. Non ci dà il totale. Comunque... Andiamo nella lista preferiti. Però ancora non lo compriamo. Poi... In attacco... Stavo già pensando a un... Lautaro. Eccolo qui. Pure lui. Lì sta. Ok. E poi... Anche su lui. A Londra. Come cazzo? Si scrive? Vabbè. Io vi ho cercato. Dai. Noi vi andiamo in giro perché non lo so scrivere. A centro campo, ragazzi. Allora. Poi vediamo. Esterno destro. Si può cambiare velocemente. Si può anche comprare una... Douglas, anche se... Andiamo un po'. Ecco. Subito. Che sei esterno-sinistro, lui può fare tutti i ruoli. Beh. Beh. Eh. Douglas è buono. Ok. Ora come ultima tappa difensore centrale. Ragazzi. Andiamo sul... Sicuro. Ragazzi. Koulibaly. Come ragazzi si scriveva. Kalidu Koulibaly. Ecco. 88. Valore 60 milioni. Non so se c'è più soldi per prendere però ci si prova. Ok ragazzi. Allora. Io partirei dal settore che è importante. Andiamo qui. Questi sono gli acquisti che voglio fare in questo campionato. Non so perché va così. Questi sono gli acquisti che vorrei fare in questo campionato. Martinez, Kostas, Koulibaly e Castrovilli. Ok. Allora. Io partirei con Koulibaly. Proviamo a acquistarlo. E poi andrei con Martinez o Castrovilli. Ok. Guardateli bellini. Non in un posto molto bella. Lazio in teoria non è così però vabbè. ma ragazzi noi non abbiamo soldi per farlo quindi oddio ho sbagliato oh porco andiamo a Cervi sì una sega non ce l'abbiamo termina trattativa ok allora ci abbiamo pochi soldi ragazzi ci abbiamo provato poi ci abbiamo solo 21 milioni non si può prendere niente allora io direi andiamo a vedere Douglas quanto vale 31 letto e offriamo 20 più un giocatore allora scambio giocatori ali Lazzari ok 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 proviamo un centrocampista uno e oddio magari magari l'accetti più 27 mila offriamo una controfferta posto di 27 mi metti 20 22 22 accetti ah dai ragazzi poi come centrocampista compriamo Castrovilli 22 non voglio salire oltre ah bene dai 23 va bene hai sempre vinto ok ok ora andiamo su Castrovilli anche se so ragazzi non è forte però cioè non è alto di valutazione però è forte e quanto gli offriamo un mili due tre milioni eh vabbè però se te non mi dici quanto vuoi porca puttana vaffanculo allora vabbè ci sono presi solo lui allora mica male dai ah il ristorante chic sembra carta bianca benvenuti vai trattiamo questo importante si va bene ecco già si porta male è cruciale accetto speriamo non vuoi la clausola accetto tre anni tanto ecco ignora ignora ehi la madonna vabbè accettiamo tutto raga lo voglio io Douglas lo voglio l'autario non ci si prova nemmeno tanto non abbiamo soldi va bene allora l'area è andata abbastanza bene ora si giocherà con parolo Douglas e poi l'ulic lazari vabbè mica male dai e niente ragazzi andiamo a farci questa super coppa coppa che poi in realtà è la coppa italia però non so perché la chiediamo super coppa magari se va in questo video non ci saranno tagli ve lo dico ci sarà proprio nessun taglio ragazzi perché almeno così ok aspettate luis felipe luis felipe trattiamo ragazzi trattiamo no dai saliamo saliamo mi dispiace un cazzo papà io non te l'accetto sì è titolare 14 vorrei sformare un milione bene ora luis è in trattativa ragazzi ragazzi io vi faccio fare una cosa invece per questo video è tutto abbiamo comprato durerà poco questo video poi ora nel prossimo video faremo la finale ci dedicheremo un video di finale questo video è tutto ragazzi spero vi sia piaciuto guardate quanto è finale abbiamo da giocare quante partite normali questa è la Europa League poi inizierà anche la Champions ragazzi non vi preoccupate quando finirà l'Europa inizierà la Champions qui ci sarà la prima partita contro la Juve ragazzi che la faremo in un prossimo episodio che uscirà presto allora ragazzi ci vediamo sul prossimo video e niente ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti